Ragazzi, crolla una nuova panchina in Serie A. Praticamente nella Salernitana è stato nuovamente esonerato l'allenatore, quindi va via con l'Antuono. E adesso vedremo chi prenderà, perché come si vede, Iervolino vuole fare le cose a modo che lui non si accontenta dei due punti fatti in due partite. Lui vuole tanti punti per la salvezza. E chi sta chiamando? Ha chiamato Pirlo, ma sembra che Pirlo abbia chiesto un quadriannale con un ingaggio abbastanza alto, per cui la Salernitana dovrebbe aver detto di no. Probabilmente il nuovo allenatore sarà Nicola. Nicola che è autore di diverse salvezze nella sua carriera e può essere un allenatore che possa dare quella marcia in più alla Salernitana. Dal punto di vista Fanta Calcio bisogna vedere come giocare alla Salernitana, anche perché ci sono un sacco, un sacco di nuovi giocatori. Iscriviti al canale, lascia un like al video e cercami su Instagram, TikTok, FantaGol, trattino basso Fanta Calcio. Lasciami anche un messaggio, tu l'avresti esonerato con l'Antuono?